Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Ebbene sì, oggi parliamo del trailer che è stato rilasciato ieri sera al Summer Game Fest di Final Fantasy VII Rebirth. Sono usciti i trailer in giapponese e ovviamente il trailer inglese, ci sono delle differenze che bisogna sottolineare, ma per prima cosa facciamo una reaction e un'analisi dettagliata di quello che è il suo trailer, in modo da scorgere tutti quelli che possono essere i punti fondamentali di questo capitolo. Partiamo subito dal presupposto che è stato presentato e verrà rilasciato nel 2024, all'inizio del 2024 e sarà su due dischi, quindi avremo due cd per esplorare il mondo di Rebirth, che in teoria se dovessero seguire l'ordine cronologico della storia originale potrebbe anche starci, per tutto quello che si vede in questo trailer. Vedremo tantissimi luoghi, vedremo tantissime zone che effettivamente si davano per scontate o che effettivamente si potevano schippare e che invece sono state inserite all'interno della narrazione. Quindi c'è veramente tanta roba di cui dover discutere. Quindi direi di non perdere tempo e cominciamo subito a guardare il trailer e analizzarlo fotogramma per fotogramma. Ok, cominciamo subito da questa immagine, un'immagine che viene ripresa per l'appunto dalla Shinranet, come potete vedere, dove siamo in diretta dal settore 2. Siamo in diretta dal settore 2 dove a quanto pare c'è stato un disastro. Potrebbe rappresentare il disastro della fine del remake? Nì, perché in teoria il disastro originario del remake dovrebbe interessare per lo più il settore 7. Questi settori, che tra l'altro verranno menzionati e saranno il settore 0, 1 e 2, che sono stati colpiti a quanto pare da questo tornado, da questo cataclisma naturale, ha provocato anche delle vittime e la Shirra si sta occupando di recuperare quelli che possono essere i superstiti o i corpi in generale. Come potete notare, appena è stato detto appunto che questo tornado ha interessato i settori 0, 1 e 2. E stiamo vedendo i soldati Shirra che stanno portando sulle barrelle Barrett, Tifa, che... guardate il movimento che fa Tifa. Il movimento che fa il braccio di Tifa sembra quasi essere il movimento di un cadavere o comunque di una persona senza sensi. Quindi non sappiamo effettivamente se stanno trasportando dei cadaveri in questo momento o se stanno trasportando magari delle persone che sono svenute e che quindi hanno perso i sensi a causa di questo disastro. Infatti come potete leggere c'è scritto i nostri, diciamo, soccorritori stanno per l'appunto recuperando alcuni sopravvissuti. Sono tutti recuperati. Qui ci troviamo praticamente nella cava dopo ovviamente aver probabilmente incontrato il Midgas Storm ed essere appunto andati alla Chocobo Farm stiamo praticamente uscendo dalla Mithril Cave, in teoria. E per l'appunto ci si apre di fronte il mondo aperto però dalla parte opposta. qui in realtà io non so effettivamente che cosa pensare a primo impatto potrebbe essere la Chocobo Farm ma la Chocobo Farm in teoria dovrebbe essere prima la cava perché noi appunto prendiamo i Chocobo per attraversare il lago con il Midgas Storm e poi entrare nella cava nella caverna quindi vederla dopo mi sembra un po' strano anche perché il percorso che noi facciamo da Midgar a Calm lo abbiamo praticamente percorso durante la fine del remake con l'episodio Intergrade di Yuffie quindi noi dovremmo arrivare a Calm successivamente da Calm ci spostiamo alla Chocobo Farm e dopo andiamo alla cava quindi questa potrebbe essere un'altra stazione Chocobo quindi magari hanno messo diverse stazioni in giro per la mappa per permetterci di muoverci più diciamo più facilmente dato che appunto i Chocobo li potevamo utilizzare soltanto nel frangente per oltrepassare il lago con il Midgas Storm quindi magari abbiamo in questa sessione del Rebirth più stazioni Chocobo o comunque più fattorie Chocobo che ci consentono di utilizzare appunto gli animali perché come potete notare dal design che si vede il mulino e anche diciamo tutta la forma da capanna sembra essere appunto una fattoria solo che però al centro per esempio tra i due mulini non si vedono mangiatoie non si vedono recinti non si vede nulla quindi potrebbe essere una fattoria alternativa potrebbe essere anche solo una stazione dei Chocobo e non la Chocobo Farm come quella dopo Calma qui invece siamo praticamente in tutta la sezione di mappa aperta quella è tutta la catena montuosa che in teoria dovrebbe costeggiare la parte occidentale in questo caso della mappa di gioco che dovrebbero girare fino alla parte di di mappa che poi si va a intersecare dall'altro lato della della zona di Junon ora non riesco a farvela vedere ma chi conosce il gioco sa a quale catena montuosa mi sto riferendo e qui come potete vedere ci sono appunto i mulini che si vedono di fronte sulla costa lì addirittura c'è un faro sulla destra sembra esserci un faro e non ho idea effettivamente di come possa essere stata sviluppata la mappa in questo senso qui stiamo viaggiando ci sono le tubature o comunque quelle sorte di tubature a sinistra che in teoria potrebbero essere le tubature che trasportano l'amaco fino alle città per dare energia in teoria dovrebbero essere quelle qui tifa che si domanda che cosa ha fatto cloud in questi cinque anni e dove è stato cioè sta chiedendo ad eris in realtà queste cose esatto eris la interrompe dicendo ma scusami cioè me lo chiedi a me che cosa ha fatto cloud o dove era cloud in questi cinque anni ecco e qui ci siamo praticamente allo chocobo farm ma se notate la chocobo farm non sembra essere sulla costa e non ci sono neanche i mulini probabilmente quello sulla sinistra è un mulino ma dall'altro lato non c'è nulla ci sono alberi perché appunto la chocobo farm si trova al centro della mappa e non sulla costa quindi quell'altra zona che abbiamo visto poco fa con i mulini potrebbe essere una seconda stazione chocobo perché avendo messo una mappa esplorabile probabilmente più grande essendo comunque due cd probabilmente avremmo bisogno di utilizzare chocobo più spesso di quello che si possa pensare ecco qui stiamo cavalcando praticamente chocobo quindi è confermata la possibilità di poter cavalcare chocobo e ci stiamo dirigendo verso delle rovine cloud non è stato a nibelheim cinque anni fa e questa tecnicamente è una cosa che tifa non dovrebbe dire perché tifa ha riconosciuto cloud quando l'ha salvata tra virgolette perché quando è stata colpita da sefirot cloud ha prestato il primo soccorso a tifa tifa l'ha riconosciuto dicendo che aveva mantenuto la promessa che quando lui in caso sarebbe diventato soldier avrebbe salvato tifa qualora lei fosse stata in pericolo quindi ha mantenuto quella promessa lui poi l'ha spostata ovviamente l'ha messa di lato cioè l'ha praticamente trascinata dal centro delle scale l'ha appoggiata praticamente di lato e poi è andato ad affrontare sefirot quindi perché tifa sta dicendo questo cioè non ricorda effettivamente cloud in nibelheim e qui invece facciamo e qui invece facciamo uno skip incredibile perché ci troviamo praticamente a costa del sol e scusatemi a cosmo canyon perché ha detto costa del sol cioè ci troviamo già a cosmo canyon quindi cioè come facciamo come facciamo ad essere al cosmo canyon e stiamo parlando con bugerhagen quindi diciamo che cioè abbiamo fatto praticamente un bello skip cioè questo trailer praticamente ci ha fatto vedere la parte appena iniziale e poi siamo andati abbiamo fatto un salto in avanti direttamente col colloquio con bugerhagen che ci spiega il live stream ci spiega tutto eccetera eccetera questa invece è la caverna sotto cosmo canyon è tutta quella caverna che esploriamo sotto cosmo canyon ne sono abbastanza convinto in realtà proprio per i riferimenti dei cristalli dell'amaco che si vede lì per terra e credo che sia per l'appunto un riferimento alla caverna sotto cosmo canyon ecco qua questa voce era una voce che non sapevo chi fosse le prime ovviamente ricerche su internet che ho potuto fare non appena è uscito il trailer mi hanno fatto notare che questa è la voce di rufus è rufus che sta parlando non si sa con chi stia parlando effettivamente e abbiamo praticamente la sua testimonianza dei fatti dove secondo Hojo sono collegati a Sephiroth sono collegati a Sephiroth non si sa cosa probabilmente Genova e le cellule di Genova lui le ha chiamate la sua ombra se non mi sbaglio cioè lui ha chiamato l'ombra tra l'altro questa zona di mappa sembra essere particolare perché dal dal terreno che si vede che è un terreno prevalentemente roccioso con poca vegetazione e questi grossi tubi che trasportano l'amaco dovrebbe essere il territorio circostante a Junon e noi praticamente quella che vediamo lì davanti in teoria dovrebbe rappresentare Junon o per meglio dire il settore laterale della città di Junon qui invece ci troviamo a Calm questa è la scena dove appunto siamo dentro la locanda di Calm e Cloud ci racconta gli avvenimenti di Nibelheim Tifa come potete notare però è diciamo quasi imbarazzata da quello che sta ascoltando perché effettivamente Tifa sa cosa è successo veramente a Nibelheim e quando Cloud racconta la sua versione dei fatti lei non ha mai interrotto il racconto di Cloud solo dopo si scopre che Tifa non ha voluto diciamo interporsi nel discorso di Cloud e nella mente di Cloud perché aveva paura di poter ferire i sentimenti di Cloud di poter ferire in generale Cloud mentre invece poi trova il coraggio successivamente col delirio di Cloud appunto del suo diciamo nel live stream quando cade nel live stream e parte il delirio di Cloud lì trova il coraggio Tifa di rimettere in ordine i ricordi di Cloud e quindi si riposizionano tutti i pezzi del puzzle ecco Sephiroth si trova in Midgar e abbiamo combattuto ma precedentemente Tifa cos'è che ha detto ad Eris? Cloud non è mai stato a Nibelheim cioè c'è praticamente questa contrapposizione no? di Tifa che sa una cosa e Tifa che però poi non dice nulla quindi in teoria se Tifa ed Eris hanno parlato prima di questa scena in teoria anche Eris stessa poteva dire ehi Cloud a me Tifa ha detto che tu non ci sei stato a Nibelheim quindi molto probabilmente Tifa e Eris parlano dopo Calm quindi la scena che noi abbiamo visto quando stavamo camminando in quelle praterie dove Tifa ed Eris parlano probabilmente verrà dopo sarà una confessione che avverrà dopo in ogni caso è vivo ecco ma perché è tornato adesso? e guardate qui la scena mentre Tifa ci sta dicendo dopo cinque anni a fare che cosa? appare la sorta di visione disturbata che Cloud ha quando entra in contatto con Eris e quando è Sephiroth che entra in contatto con Cloud anche nel remake c'è stata questa cosa dove Eris ha fatto vedere delle immagini a Cloud come quando è caduto nel settore 5 per la prima volta o quando parlano vicino casa di Eris e quindi ci sono dei piccoli flashback che Cloud vede grazie al potere di Eris qui invece Cloud ha una sorta di disturbo mentre è Tifa che parla ecco qui ci troviamo probabilmente nella sezione ghiacciata ovvero la sezione dopo lo snowboard per chi magari per chi magari volesse effettivamente ricollegarsi perché questa è la caverna quella di ghiaccio che superiamo praticamente dopo esserci smarriti con lo snowboard quindi in teoria dovrebbe essere quella secondo me viene rappresentata dal golem di ghiaccio dove noi invece all'interno del gioco affrontavamo le stallattiti che praticamente le dovevamo spaccare le dovevamo buttare giù e poi proseguivamo avanti quindi secondo me questa appunto è la caverna di ghiaccio infatti come potete notare c'è tutto praticamente cristallizzato attorno sono tutti cristalli sono tutti appunto almeno per me sembrano essere la fase della caverna di ghiaccio e qui invece ci ritroviamo nella cava di Mithril dove praticamente affrontiamo i torx noi li incontriamo nella storia originale con Sang che praticamente ci presenta Elena e Rude che stanno cercando Eris in questo momento e invece noi qui li affrontiamo come boss fight quindi avremo una boss fight praticamente prima di uscire dalla caverna di Mithril e i boss saranno per l'appunto Elena e Rufus eh scusatemi Elena e Rude scusatemi ecco eccola qui invece ci ritroviamo fuori siamo in prossimità probabilmente lì c'è alla sinistra il mulino quindi siamo diciamo nella zona esterna nella mappa aperta se così si può dire qui ci sono alcuni combattimenti casuali e guardate sullo sfondo e qui siamo a Junon questa è palesemente la città di Junon quello è il cannone e come potete notare siamo nella stessa zona di prima quella eh come dire semi desertica chiamiamola così che abbiamo visto poco fa con tutti quei grossi cilindri che portavano la Mako all'interno della città perché ovviamente le città erano alimentate a Mako e quindi in teoria dovrebbe essere la stessa zona solo vista probabilmente da una prospettiva diversa o comunque facendo il giro eh dalla parte esterna red 13 giocabile gli attacchi combinati come c'era stato suggerito già dai tweet che praticamente abbiamo letto durante tutta la settimana prima del rilascio di questo trailer dove appunto le interazioni sarebbero state innovative e ci sarebbero state delle novità per quanto riguardava appunto le interazioni dei personaggi e quindi abbiamo gli attacchi combinati così come abbiamo fatto con Yuffie e Sonon nel capitolo di Intergrade un piccolo showcase degli attacchi combinati qui abbiamo una reazione molto particolare di Yuffie che credo possa essere ricollegata al suo trauma che ha vissuto in Intergrade dove appunto questo fumo viola con queste rimembranze ricordano probabilmente l'arrivo di Black che poi successivamente uccide Sonon quindi secondo me Yuffie in questo caso ha una reazione esagerata proprio per questo motivo è un trauma che le sta rivivendo è un trauma che lei ha subito e che adesso ancora non ha avuto la forza di smaltire e non ha avuto la forza di di combattere e quindi abbandona praticamente Cloud e tutti quanti gli altri al loro destino They say they say it's a monster la traduzione ma in realtà they say she's a monster riferito a chi? ovviamente a Genova questo è Sephiroth che sta parlando e sta parlando di Genova un mostro che può leggere il tuo cuore fino alla profondità della tua anima ovviamente è un riferimento a Genova perché sapete benissimo che Genova la calamità che è caduta dal cielo aveva la facoltà di poter cambiare la propria forma tant'è che noi affrontiamo Genova Sephiroth in tutto il percorso di Final Fantasy 7 e questa tecnicamente dovrebbe essere la boss fight che noi abbiamo all'interno del traghetto che ci porta da Giurano a costa del Sol che cosa succede? Sephiroth se ne va perché giustamente poi Sephiroth diciamo se ne va lasciando un pezzo di Genova che poi prende la forma e diventa la boss fight la cosa che più a me mi ha inquietato in questa fase è che praticamente tutto lo sfondo cambia cioè credo che comunque sia una cosa voluta nel senso che dato che Genova per l'appunto può leggere nel tuo cuore e può in un qualche modo istillare anche dei dubbi in questo caso e quindi giocare con la tua mente facendoti credere comunque delle cose che magari non sono vere in questo caso secondo me ha cambiato proprio tutta la scena attorno a sé proprio per secondo me creare un po' di ambientazione dato che appunto un mostro del genere una Genova di questa forma del genere all'interno diciamo di una stiva della nave non avrebbe avuto molto senso e quindi di conseguenza secondo me è proprio tutta una una mera illusione che è stata fatta proprio per questo motivo ecco ecco le può diventare ciò che tu odi ciò che tu ciò di cui tu hai paura o ciò di cui tu sei innamorato riferendosi al fatto che comunque Genova assume diverse forme sia per quanto riguarda Sephiroth che è colui che lui odia e colui di cui ha paura ma assume anche la forma di Tifa perché lui ama Tifa inconsciamente e quindi prende anche la sua forma riunione questa è la scena classica dove appunto Sephiroth attira a sé tutte le sue copie o per meglio dire diciamo tutti gli esperimenti delle cellule di Genova la reunion la famosissima reunion quindi guardate quanto stiamo andando avanti e qui invece ci troviamo a Nibelheim questa è la differenza fondamentale col trailer giapponese Tifa che si avvicina a Sephiroth ovviamente come nella scena originale che cerca per l'appunto di ucciderlo ma Sephiroth cosa fa? la prende e la allontana colpendola con la spada dove poi Cloud appunto la salva o comunque la sposta dalle scalinate e la lascia lì dove poi viene salvata da un'altra persona che sapete benissimo chi è ovvero il suo istruttore il suo maestro che la prende e la salva ma Cloud combatte Sephiroth qui ma sentite cosa ha detto Sephiroth sentite in inglese cosa dice You know that I killed her quindi tu lo sai che io l'ho uccisa e così a primo impatto se non si ha un vero e proprio riferimento c'è solo una persona che può essere il soggetto di questa frase ovvero Eris ma nel trailer giapponese questa stessa frase assume un significato completamente diverso perché nel trailer giapponese Sephiroth fa il nome di Tifa quindi You know that I killed her si riferisce a Tifa quindi tu sai che io l'ho uccisa e riferito a Tifa vedete la colpisce e si vede il sangue so who is she quindi chi è lei so who is she ovviamente questa frase può voler dire tutto e può voler dire niente perché come ha detto poco fa Genova può farti credere qualsiasi cosa quindi potrebbe anche essere un blef di Sephiroth questo per spaventare Cloud potrebbe essere un'induzione di Sephiroth per scuotere la coscienza di Cloud e quindi diciamo in un qualche modo spaventarlo o comunque metterlo in una posizione difficile magari ma la differenza è che per l'appunto il riferimento non è Eris ma il Tifa come si può sentire benissimo dal trailer giapponese avete sentito ha detto esplicitamente il nome di Tifa Tifa e Korosh cioè io ho ucciso Tifa io ho ucciso Tifa quindi chi è lei non so se con i sottotitoli eccolo 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 con i sottotitoli si legge non è tradotto benissimo ma si legge tutti nel villaggio ok should have killed Tifa non si sa se qui ovviamente dobbiamo ascoltare il doppiaggio in inglese dove dice I've killed her dove dice che effettivamente l'ha uccisa o qui è un periodo ipotetico quindi avrei dovuto uccidere Tifa ma secondo me qui appunto il riferimento esplicito è che stiamo parlando della morte di Tifa cosa che in realtà non è avvenuta e che per la trama o comunque sia per il in generale per quello che è stato il gioco di Final Fantasy 7 Tifa non è morta l'unica vera morte è quella di Eris che ripeto per me resterà una costante cioè per me Eris deve morire quindi senza la sua morte gli eventi di Final Fantasy 7 perdono valore quindi spero che comunque questa cosa ci sia o comunque venga mantenuta all'interno di questo titolo che sembra essere una grandissima opera anche di narrativa perché la narrativa sembra essere non così scontata come ce l'aspettavamo potrebbero esserci cambi di direzione c'è chi suppone le linee temporali diverse come per esempio il disastro iniziale che si è visto nel settore 2 dove appunto tutti i nostri protagonisti sono addirittura morti in quella tragedia non si vede Cloud perché non si vede Cloud e quindi potrebbe essere l'unico sopravvissuto con Zack o potrebbe essere Zack sopravvissuto ma non lo sappiamo non sappiamo che cosa succede anche perché in questo trailer Zack non si vede e noi abbiamo visto che Zack sopravvive e che Zack soprattutto nel trailer o comunque nella parte finale di Intergrade ritorna al settore 5 quindi non è presente lì nel settore 2 e nel settore 5 entra in chiesa e trova qualcuno che non si sa però per quanto riguarda questo trailer non credo che ci sia altro da dire probabilmente ci saranno altre cose che usciranno fuori leggendo magari qualche altra traduzione o facendo qualche altra reaction però per il momento io mi fermo qua se c'è qualcuno che ovviamente vuole aggiungere qualcosa sui commenti può tranquillamente aggiungerla per ovviamente cercare di avere informazioni in più se no fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi trailer e di che cosa è stato detto su questi trailer detto ciò io vi saluto vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye